Ciao, prego, vieni pure. Mi trovo nell'atelier di Toni Gallo. Ciao Toni. Ciao. E siamo qua perché è appena finito l'allestimento dello spazio Tindaci, dove mercoledì partirà questa nuova tua esposizione. Sarà l'inaugurazione della mostra che faccio a Spazio Tindaci, Welcome to my forest. È un benvenuto che do nel mio mondo, nel mio magico mondo. Sempre più gente conosce le tue creature. Ma tu Toni, ti è mai capitato di incontrare di persona? Diciamo che le incontro sempre più spesso e di nuove durante i miei sogni. Siamo in un sogno? Siamo in un sogno. Ci vediamo mercoledì allo spazio Tindaci alle 18.30. Buongiorno mattino.